Ciao ragazzi, non so se avete visto questo post, ma quindi qual è questo video speciale? Ma prima vi ricordo di iscrivervi e di attivare la campanella Se volete con un video scelto da voi, punisca nei miei short, vi basterà iscrivervi al mio secondo canale e trovate il link nel post Una volta raggiunti i 10 iscritti, guardate il video e possibilmente lasciate like Successivamente, d'ora il via su un altro post e potrete lasciare un commento sotto il precedente per scrivere che video volete vedere Grazie